Addio padre, appena ci saranno novità sul vostro conto, ve le farò arrivare, non temete. Ma ve lo dico subito, potete, potete stare tranquillo. Io farò tutto il possibile, perché il governatore capisca le vostre ragioni di salute. Grazie, Augusto. Sì, sempre un buon soldato. Io so che hai la stoffa per esserlo. Coraggio. Cos'altro? Non devi preoccuparti, tesoro. Andrà tutto bene. Signora, scusatemi. Buongiorno. Buongiorno, figliola. Sapreste dirmi dove posso trovare una brava modista qui? Più avanti, appena girato l'angolo, potrai trovare la migliore di Santa Maria. Grazie. Secondo me è meglio lasciarlo perdere. Scusatemi. Niente male la pollastrella, se non avessimo quel lavoro da fare per il signor Cuglielmo. Che cosa intendete dire con patto tra amici? Semplicemente che dovrete essere sincero con me. Lo sarò, ve lo prometto. Guglielmo, a mia figlia Carlotta e a me piacerebbe moltissimo poter vivere in questa casa. Siamo rimaste sole al mondo. Abbiamo soltanto voi. Siete la nostra famiglia. Io volevo sapere se a voi dispiacerebbe. Mi rendo conto che è da tanto tempo che abitate in questa casa e ormai la considerate un po' anche vostra. Io non vorrei sentirmi un'intrusa. Ma, per cortesia, non dovete dirlo neanche per scherzo. Come potrei avere qualcosa in contrario? E questa vittoria è la vostra casa. Avete tutto il diritto di stabilirvi qui e voi lo sapete bene. E inoltre, io so perfettamente che questa casa appartiene a voi come tutto il resto del patrimonio del signore Emanuele. E sono pronta ad andare da un'altra parte con la mia famiglia. E se voi preferite rimanere qui da sola con vostra figlia? No, per favore, Guglielmo. Non ci pensate neanche. Non potrei mai permetterlo. No, per carità. So bene che tutto questo sarebbe andato perduto se non fosse stato per voi, che l'avete amministrato così bene. Se non fosse stato per Maria e Lucia, cosa sarebbe ora questa casa? Sarebbe, a dir poco, invivibile. No, non voglio che ve ne indiate. Ve l'ho detto, siete la mia famiglia. E il mio desiderio più profondo è poter rimanere qui vicino a voi, tutti uniti. Maria, sono venuta presto per poter prendere una tazza di tè con voi. Ho preparato questi pasticcini, roba da leccarsi le dita. Che cos'hai? Quando sono entrata e ti ho vista qui, mi hai ricordato i miei genitori. Dare loro un bacio era la prima cosa che facevo tutte le mattine appena alzata. Grazie. Sono stata tutta la notte a pensare ad Emanuele. Non riuscivo a chiudere occhio. Adesso però basta, basta con questi discorsi. Coraggio, raccontami. Raccontami di che cosa hai parlato con tua sorella. Ah, Lucrezio. Vittoria e io abbiamo dimenticato tutto. E sai com'è successo questo miracolo? Perché abbiamo parlato, abbiamo parlato sinceramente. Certo. Ma se sapessi, lei si è dimostrata così, così comprensiva nei miei confronti. Sono tanto contenta, Maria. Finalmente, credo che ora tornerà ad essere tutto come una volta, nonostante tutti gli anni passati, nonostante tutto quello che è successo. Mia sorella e sua figlia sono di nuovo con noi. Questo mi dà persino la speranza che ora l'allegria potrà finalmente tornare in questa casa. Sì, naturalmente. Perché no? Anche se... Che c'è? Che c'è? Non sono proprio sicura che Guglielmo sia molto contento che loro restino a vivere qui. Io aspetterei a trarre delle conclusioni affrettate. Anche se Guglielmo è un tipo un po' difficile, lo so. Comunque, se dovessero sorgere dei problemi, io posso sempre ospitare Carlotta e Vittoria nella mia casa di Santa Maria. Non ti preoccupare, davvero. Potrete comunque rimanere unite. Grazie. A quanto vedo, la cucina è diventata il luogo di ritrovo preferito dalle donne di questa casa. Lo è sempre stato, non è vero, Maria? Certo, è così. Ma cos'è questo sorriso? Che cosa ci nascondete? Una bella notizia. Ma voglio lasciare a Vittoria il piacere di comunicartela. Maria, Lucrezia, Carlotta e io resteremo a vivere in questa casa. Saremo di nuovo tutti insieme, in famiglia. Finalmente, di nuovo insieme, per sempre. Grazie, Guglielmo. Non hai motivo di ringraziarmi e tua sorella. Ah, che gioia, Maria. Vittoria, mi sento tanto felice. Resterai ancora qualche giorno? Qualche giorno sì. Adesso che saprò sempre dove posso trovare le mie due adorate nipotine, potrò portare a termine con calma alcune questioni riguardanti la mia casa. Dopodiché farò ritorno a Villa Speranza. Ho nostalgia della mia terra e di mio figlio. Ti capisco. Per questo, quanto prima comincerò a preparare i miei bagagli, voglio tornare il più presto possibile alla mia tenuta. Signora Parker! Che sorpresa! Come vedi, ormai mi prendo la libertà di entrare nella tua tenuta come se fosse in casa mia. Sono felice che quando venite qui vi sentiate a casa vostra. Ti ringrazio. Mi fermerò soltanto per pochi istanti. Mi hanno informata della morte del fratello di Lucrezia e ho pensato che magari lei fosse già ritornata. No, ancora no. E questo mi preoccupa molto. Oh, era suo fratello. Forse si sarà dovuto trattenere per risolvere alcune questioni private. Tra l'altro, se non sbaglio, lui era un forte alleato del governatore. Entriamo a prendere un tè? Preferirei continuare a chiacchierare qui fuori. Su, andiamo. A casa. Abbiamo lavorato abbastanza per oggi. Come desiderate, dottor Stefani. Presto. Non deve rimanere un solo pezzo di carta leggibile. Forza, svelto. Dai, più svelto. Io so che tutti i Tebaldi sono grandi amici del governatore. Ma di questo aspetto di suo fratello mia madre non mi ha mai parlato. Ora mi potete dire perché mi fate questa domanda. Per quello che sta succedendo a Santa Maria a causa degli ordini di questo governatore. Io sono stata lì ed è tutto un ribollire di violenza e di sospetti. Potreste spiegarvi meglio. E' il terrore che governa quella città. Non c'è libertà di opinione. Nessuno può mettere in discussione un ordine del governatore per quanto ingiusto e arbitrario possa essere. Lui ha tutto il potere nelle sue mani e amministra la provincia a suo piacimento. Tagliando anche teste ed esponendole sulle pubbliche piazze se lo ritiene necessario. La paura non è uno scherzo. E la gente lì ne ha moltissima purtroppo. Per questo abbassate la voce. Il governo ha seminato spie praticamente ovunque. E se qualcuno mi sentisse non esiterebbe a denunciarmi come traditrice della patria. Signora Parker, io non riesco a capire come la gente possa vivere nel terrore. E obbedire come se fosse un greggio di peco. No, no, non sono tutti così, Catrielle. Non sono tutti così. Ci sono dei ribelli, dei coraggiosi che stanno cercando di liberarci dal gioco di questo tiranno. Però anche i loro metodi, non si può certo dire che siano molto più civili. È sempre stato così, signora Parker. Alla violenza si risponde con la violenza. È vero. E questo è tremendo. È vero, lo so, è la cosa più terribile. Se qualche volta la ragione riuscissi a vincere sulla crudella arroganza della violenza. Sono certo che un giorno sarà così. Ci sono già stati uomini, signora Parker. che sono riusciti a imporre la forza della ragione. E credo, credo che ce ne saranno sempre di più. Poco fa Guidi è venuto a cercarti. Lo hai visto? No. Che cos'hai? È che non ce la faccio a vederti così, mi si spezza il cuore. Presto mi passerà. Dammi solo qualche giorno. È appunto di questo che ti vorrei parlare. Dobbiamo cominciare a pensare a cosa faremo. Non ho pensato ad altro tutta la notte. Sì, me l'immagino. Ma ora dobbiamo essere forti, Rosalba. Più forti che mai. Dovremmo lasciare questa casa. Dovremmo andarcene. Non so ancora dove, ma... dovremmo andarcene. Ma scusa, Rinaldo. Non è ancora arrivata l'approvazione delle tue dimissioni. Arriverà, sicuramente. Più presto di quanto credi. E dobbiamo tenerci pronti. Sai una cosa? Stavo pensando di... di abbandonare questa provincia. Magari all'interno, col poco denaro che abbiamo, riusciremo a sistemarci più facilmente. Non lo so. Non lo so, non lo so. Che c'è, cara? Sei pentita per aver scelto di seguirmi in questa decisione? No, amor mio. Non desidero altro che seguirti, lo sai. Ti seguirò anche in capo al mondo. Signora Lucrezia, sto andando a portare questi pasticcini giù alla prigione. No, grazie infinite, Domenica. Ti rivedremo prima che tu faccia il ritorno a Villa Speranza. Oh, naturalmente. Però voglio che voi mi promettiate una cosa. Sì, certo. Mi piacerebbe che tra non molto tempo mi veniste a trovare. Carlotta e Lucia passerebbero delle stupende giornate alla tenuta. È un'ottima idea. Ti prometto che verremo. Bene, e mi raccomando, giudizio. In questa città si sta facendo ogni giorno più difficile vivere. Questa città, Lucrezia, sta dando ai fuori legge quello che si meritano. E qui tutti credono nel progresso della patria. Carlotta, è stato un piacere conoscerti. Mi auguro che tu sia felice in questa casa. Grazie, Lucrezia. Speriamo che per rivedervi non dovremo aspettare altri vent'anni. Non si può negare che hai ereditato da tuo padre il sottile humor inglese. Mi rivedrai molto presto, prima di quanto immagini, Lucia. Mi troverete a casa mia, a poca distanza. Ci terremo in contatto. Riceverete molto presto le mie notizie. Bruno! Se non stai più attento, rischi di farti del male. Catrien, sono appena stato all'entrata a ricevere uno straniero. Ha detto che vuole parlare con te. Con me? Sì. E chi è? Un dottorino di Santa Maria. Un avvocato che di sicuro non porta niente di buono. E dove si trova ora? Buongiorno. Sono il dottor Leonardo Ortiz. Sono un avvocato di Santa Maria. E ho urgenza di parlare con voi. Mantieni la calma, Catrien. Ragazzi? Se non ho capito male, voi siete Catrien, figlio, cioè figlio adottivo della signora Lucrezia Tebaldi. Avete capito bene? Vedo con piacere che siete di poche parole. E io sono un uomo di legge. Pertanto, verrò rapidamente al punto. Ve ne sarei molto grato. Se volete accomodarvi in casa. Non è necessario. Quello di cui devo parlarvi non mi richiederà molto tempo. Possiamo parlarne anche qui. Dite allora. Ebbene, sono qui per informarvi che è stata asporta una denuncia dal mio cliente per l'appropriazione indebita di questa tenuta e di tutti i terreni circostanti. In altre parole, vostra madre, la signora Lucrezia Tebaldi, su queste terre, è un'intrusa. Questo vaso è francese del secolo scorso. Se volete aggiungerlo al resto dei mobili. Sì, mi piace, d'accordo. Prenderò le poltrone, il vaso, alcuni degli arazzi e le sedie di quel tavolo lì. Ovviamente, signora, dovremmo discutere sul prezzo. No, 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 non discuteremo niente. Va bene come abbiamo stabilito. Tutto sommato non credo che utilizzerò più questa casa. Come preferite. Allora ripasserò domani mattina presto per pagare. I mobili li ritiro nel pomeriggio, se non vi dispiace. Sì, sì, va bene. Sì, perché domani stesso tornerò alla mia tenuta. Perfetto. Ora volete seguirmi? Vi accompagno. Ancora moltissime grazie. A domani. Buongiorno, Lucrezia. Avvocato, come state? Non vi aspettavo. Da quanto tempo? Prego, accomodatevi. Da questa parte. Sedetevi. Che cosa c'è, avvocato? È successo qualcosa di brutto? Più che brutto, direi tremendo. Hanno compiuto un attentato contro il mio studio. Come? Come sarebbe a dire? Purtroppo è così. Qualcuno è entrato nel mio studio e ha dato fuoco a tutti gli archivi. Non ci posso credere. È la verità, signora. Anni e anni di duro lavoro perduti per via di un miserabile. Tutto distrutto. Tutti i documenti. Tutte le cause di cui mi stavo occupando. Credo di capire che cosa state cercando di dirmi. Il documento, firmato da mio fratello, in cui cedeva a me, la tenuta. Distrutto. Distrutto anche quello. Sono spiacente, Lucrezia. Sono veramente desolato. No! Che state dicendo? Il padrone di questa tenuta era il signore Emanuele Tebaldi. Ora che lui è deceduto, la gestione dei suoi beni passa automaticamente nelle mani del suo rappresentante e amministratore, il signor Guglielmo Lynch, ossia il mio cliente. Pertanto, siete invitati a lasciare Villa Speranza il più presto possibile. E se vi occorre che ve la legga? So leggere meglio di quanto possiate immaginare. E vi rispondo subito che non firmerò niente e non terrò in considerazione le vostre parole. Sono cresciuto in questa tenuta e questa casa appartiene a mio padre. Vi sbagliate. A sbagliare siete voi. Dovrete dimostrarlo. Lo dimostrerò. Lo dimostrerò. E fate sapere al vostro cliente che per buttarci fuori di qui dovrà rivolgersi all'esercito o a quel benedetto governatore di cui è tanto amico. State attenti. Commettete un errore. Ma d'altronde avete anche il diritto di difendervi. Comunque avrete ancora mie notizie molto presto. Bruno. Catrell. Era quello che pensavo, vero? Vogliono mandarci via da qui. Guglielmo Linci ci vuole mandare via. Ma quella canaglia dovrà prima vedersela con me. Non è ancora detta l'ultima parola. Dovrà fare i conti con me. Credo di sapere chi è stato a commettere una simile infamia. Denunciatelo. Mandatelo in prigione. Quel delinquente non merita altro. No. No, fino a quando non sarò sicura. Purtroppo per ora non ho alcuna prova. Io credo comunque di non sbagliare. Non so cosa dirvi, signora. Perché io sono sconvolto e indignato quanto voi. Però, devo avvisarvi che se per caso qualcuno della famiglia Tebaldi decidesse di allontanarvi dalla tenuta... ...sarebbe nel suo pieno diritto. Per la giustizia, voi vi siete impossessate indebitamente di quella proprietà. Voi sapete fin troppo bene che questo non è vero. Naturalmente. Ma cosa pretendete? Che il giudice creda alla deposizione del vostro avvocato? No, signora. Senza quel documento, voi siete un'intrusa a Villa Speranza. A meno che... A meno che non esista una copia di quella lettera in casa di vostro fratello. E voi riusciate a recuperarla. Se davvero c'è quella copia, potete star sicuro che in questo momento ci sarà anche una persona che starà cercando di distruggerla. Perdonatemi se vi distrugge. Ma è appena arrivato il dottor Pietro Bandini. Lo faccio accomodare? Digli di aspettare un istante. Fallo accomodare in salone. Lo ricevo tra un minuto. Va bene, signore. No, signore. Grazie. 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 Ho bisogno anch'io di bere qualcosa di forte. A che stai pensando? Che sarebbe il caso di cominciare a preparare le nostre cose. Ma Rinaldo, non è ancora arrivata la risposta alle tue dimissioni. Non sappiamo neanche chi prenderà il comando del Fortino. Non possiamo andarcene adesso. No, Rosalba, non sto dicendo di andarcene subito. Dico solo che dobbiamo essere pronti a partire. La risposta potrebbe arrivare da un momento all'altro. Capitano! Capitano! Che succede, Guidi? È arrivato a proprio ora un soldato del reggimento di Montalba. Qui negli intorni è stato appena catturato un gruppetto di ribelli. Li stanno portando al Fortino. Ci sono ordini precisi da parte delle autorità che vengono trattenuti qui come prigionieri. Fino a quando il governatore deciderà cosa fare di quei delinquenti. Ecco. Andiamo ad accoglierli allora. Allora, come va, dottore? Quanto tempo! È sempre un grandissimo piacere vedervi, mi scuso per il disturbo. La cameriera ha detto che eravate occupato. No, stavo solo riordinando alcune cose, ma ora sono a vostra completa disposizione. Prego, sedetevi. Grazie, è molto gentile. Bevete qualcosa? Volentieri, grazie. Non vorrei sbagliarmi, ma credo di conoscere il motivo della vostra visita. È per via di quei giornalisti ribelli, non è vero? Esattamente. Sono dei codardi che, rimanendo nell'ombra, hanno l'ardire di attaccarci e di diffamarci. Ma li metteremo al loro posto. Ma ciò che possono avere detto di me, sinceramente, mi è del tutto indifferente. Non è nel mio stile rispondere agli attacchi di un paio di traditori. Ma stavolta hanno esagerato. Come hanno osato attaccare in quel modo il governatore. È una cosa davvero imperdonabile. Perdonate, Guglielmo, credevo che foste solo. No, no, venite, accomodatevi, vi prego. Grazie. Dottor Bandini, forse vi ricorderete di mia cognata, Vittoria Tebaldi. Naturalmente. Il suo fascino è intatto, malgrado gli anni trascorsi, come state, signora Vittoria. Bene, grazie. Se non ricordo male, voi eravate deputato, non è vero? Esattamente. Ma ora il mio amico Bandini svolge la professione di avvocato e uniti difendiamo la stessa causa, che è la causa del nostro paese. Sì, credo di avervi sentito accennare a dei ribelli, è possibile? Avete sentito bene. Però, ringraziando il cielo, il governo ha cominciato ad usare le maniere forti con chi vuol far precipitare il nostro paese nella confusione e nella retratezza. Ma io non credo che questo argomento sia di grande interesse per mia cognata. No, no, no. Tutto il contrario, Guglielmo. Ho vissuto in molte città diverse da quando ci siamo persi di vista. E questo mi ha aiutato a capire la situazione nella quale si trova il mio paese. E mi ha spinta ad interessarmene ancora di più. Allora, signora, vi renderete certamente conto di quanta importanza rivesta la causa che con coraggio sta sostenendo il nostro governatore. Senz'altro. E concorderete con me, pertanto, che la sola ancora di salvezza possibile contro tutti i mali da cui è affetto il nostro paese è esclusivamente lui. Mi trovate totalmente d'accordo, dottore. Il nostro paese non è mai stato meglio. Pertanto è imperativo impedire che un gruppetto di traditori oscuri il futuro di grandezza al quale siamo destinati. Eccoli qui, traditori. Sporchi vigliacchi. Presto passerete a miglior vita. Aprite la cella e lasciatemi solo. Voglio parlare con loro. A te lo caverete un ragno dal buco, signore. Non ne vale la pena. Cominciate come vi ho detto, Ruggeri. Cominciate a pregare. Mi rimane poco tempo. Sono Rinaldo Monti, comandante del Fortino. Voglio sapere cosa è successo. L'esercito ci ha tratti in arresto. E se voi siete il comandante del Fortino, saprete sicuramente molte più cose di noi. Vedo che la pensiamo allo stesso modo, Vittoria. E perché no? Il fatto che abbiamo avuto delle divergenze quando eravamo giovani non significa che adesso non possiamo avere le stesse opinioni. Sono assolutamente d'accordo con la posizione del governatore. E non solo. Ritengo che coloro che avranno ancora l'ardire di sfidarci meriterebbero punizioni più severe. Le avranno, mia cara signora. Le avranno. Capisco che mi consideriate vostro nemico. Però vi assicuro che non lo sono. O almeno non lo sarò finché non saprò cosa avete fatto. Siamo di Santa Maria. Siamo studenti. Vogliamo diventare giornalisti. E si può sapere come vi siete cacciati in questo guaio? Gestivamo un giornale clandestino nel quale ormai da alcuni mesi denunciavamo le atrocità del governo. Ma qualche giorno fa le guardie hanno distrutto tutto. Hanno dato fuoco alla cantina in cui lavoravamo. Però siamo riusciti a scappare. Ci hanno preso non lontano da qui. Sappiamo che ormai siamo perduti. Capitano, ci faranno fucilare, vero? Lei è Rosalba, mia moglie. Piacere. Vi ho portato qualcosa da mangiare. Ve ne siamo grati, signora. Non dovevate ristorbarvi. Tanto per le condannate a morte il cibo non ha più nessuna importanza. Catriona, vieni a mangiare qualcosa. No, non ho fame. Non lo capisci che sono condannato. La possibilità di perdere la tenuta è una cosa che mi sconvolge ancora più della morte. Non parlare così, Catriona. Si aggiusterà tutto. E se non si aggiusta? Bruno, io ho trascorso tutta la mia vita fra questa tenuta e l'accampamento. Così in bilico fra un luogo e l'altro che ero quasi sempre sul punto di cadere. ma in qualche modo sono rimasto in equilibrio. E ora non so cosa fare. Non hai scelta. È una soltanto. La cosa che puoi fare in questo momento. Prima di tutto aspetta che ritorni la padrona, d'accordo? E dopo... dopo che il Signore ci aiuti. Il Signore. Dio. Il tuo Dio mi porterà via tutto di nuovo. Non è la prima volta che si accanisce contro di me. Prima ha mandato i bianchi a portarmi via la terra di mio padre. Poi si è preso mia madre. Ed ora... Ora... Ora ha maggior ragione. Tu devi dimostrare che sei un uomo degno di essere su questa terra, Catriona. Che sei un uomo coraggioso. Fiducioso. E anche paziente. Con la pazienza il mio popolo non è mai riuscito ad ottenere un bel niente. Ma forse hai ragione tu, Bruno. Aspetterò mia madre prima di prendere qualsiasi decisione. non è ormai. Quindi tu devi girare E il ci vorrei Grazie a tutti. Maledetto, 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 maledetto Lynch, maledetto Lynch, maledetto Lynch. È già arrivato l'ordine No Ancora non è detta l'ultima parola Anch'io desidero quanto vuoi che si possa compiere un miracolo Su questo signori vi prego di credermi Vi credo So riconoscere un uomo di parola quando lo incontro E posso dirvi che anche se in questa triste circostanza È stato un onore per tutti noi conoscere un soldato della vostra levatura Anche se abbiamo opinioni diverse Ci avete rispettato come uomini E di questo vi siamo grati capitano Io ho sempre agito così con i miei nemici Solo che in questo caso Non sono così sicuro Che le nostre opinioni siano diverse Che cosa volete dire capitano? Credo di aver capito E adesso devo tornare ai miei alloggi Volevo chiedervi un favore Se dovesse accadere il peggio Vorrei che deste questa lettera a mio padre Vive ad arroggio seco In una piccola locanda E voglio che sappia che suo figlio è morto da uomo A testa alta So che questo lo renderà molto orgoglioso Gliela consegnerò Gliela consegnerò Ne lo prometto Ma non perdete le speranze, giovanotto Ecco Tenete Qui spiega molto chiaramente Le ragioni Delle sue dimissioni La sua salute È precaria Sono spiacente per il capitano Monti Un uomo di grande coraggio Il nostro esercito sta perdendo uno dei suoi più valorosi soldati Lo so Ma ormai la sua decisione È definitiva purtroppo Mio padre ritiene che Così facendo Sarà molto più utile Alla nostra causa Ha paura Di diventare Soltanto un peso Per il nostro esercito Ha capito che il momento Di ritirarsi è arrivato Non immaginate quanto mi dispiace Ma in fondo lo capisco È difficile affrontare la fine del nostro cammino Voi credete che Il governatore Comprenderà? Il signor governatore Comprenderà perfettamente Le ragioni di vostro padre E io Farò tutto il possibile Affinché questo succeda Vi ringrazio generale E ora Col vostro permesso Avete il mio permesso di ritirarvi Ma vi devo comunicare Che il signor governatore Vi sta aspettando Lui Vuole vedermi? Esattamente Esige di conoscere Quanto prima È di persona L'uomo che sarà responsabile Della sua guardia personale Ho capito Generale Grazie Salute Salute Ci sono novità su quei ragazzi? No, niente Rosalba Niente Dovresti vederli Sono lì Rassegnati Che aspettano di morire Ma si comportano valorosamente Tutti e tre si comportano da veri uomini Oddio mio Voglio il signore Che qualcuno abbia pietà di loro Io l'ho già fatto Ho deciso che non permetterò Che quei ragazzi muoiano Rinaldo Non possiamo fare niente Per loro Non siamo più in grado Di aiutarli La tua lettera ormai Sarà già nelle mani Del governatore Sì Forse hai ragione Ma malgrado questo Rosalba Intendo fare tutto quello Che è il mio potere Per salvare la vita A quei poveri ragazzi Non è possibile Che sia sempre Tutto così ingiusto A questo mondo Io mi chiedo Per quanto ancora Continueremo a ucciderci L'un l'altro Solo perché le nostre idee Non sono le stesse O perché la nostra pelle Non è dello stesso colore Quanto durerà Fino a che non impareremo Fino ad allora